Musica Riso eco solidale ma cibo eco solidale in generale grande protagonista della festa Tutti su per terra che si terrà a Savona nei prossimi giorni Ne scopriamo subito di più insieme alla mia ospite di questa mattina Invito a prendere posto sulla nostra panchina Isabella Rod di Eco Liguria Benvenuta Ciao grazie Allora poso qua il riso solidale simbolo un po' di quello che sarà la festa Esatto sarà una festa come dicevi tu organizzata da Eco Liguria Che è l'organizzazione che raccoglie tutte le 14 realtà che si occupano di commercio eco in Liguria In particolar modo la bottega della solidarietà di Savona E organizzeranno queste tre giorni di festa Festa in cui il cibo si sarà protagonista Con laboratori del gusto Piuttosto che un punto ristoro organizzato insieme all'alberghiero di Finale Ligure L'alberghiero Migliorini E tanti altri momenti dedicati alle materie prime Materie prime su cui da sempre si concentra l'impegno di Equa Assolutamente sì perché attraverso le materie prime si riescono a raccontare storie di giustizia economica Di riscatto si parla di una filiera produttiva in cui vengono rispettate le persone e l'ambiente Quindi è fondamentale e in ogni caso attraverso le spezie, il cacao, il riso e il caffè si possono raccontare anche delle bellissime storie delle persone e sensibilizzarle Non solo cibo diciamo straniero ma anche si parlerà di fair trade locale Quindi avremo anche dei laboratori dedicati all'olio e al vino per parlare dei prodotti realizzati nelle terre confiscate alla mafia Sì perché anche da noi c'è bisogno di parlare di eco e solidale Assolutamente sì la giustizia deve essere attuata anche da noi Quindi sarà un momento di festa per sensibilizzare tutti e per avvicinarli anche i più piccini Quindi sono previsti una serie di laboratori e di spettacoli teatrali anche circensi per loro Per avvicinare i più piccoli al fair trade in collaborazione con i cattivi maestri Divertimento anche alla sera con degli spettacoli musicali in collaborazione con Savona Rock Festival e Radio Savona Sound Il tutto ci tengo a precisarlo sarà ingresso libero e gratuito che è fondamentale Questo grazie sia al patrocino del comune di Savona che ci ha aiutato dandoci il PRIAMER Perché il tutto verrà nella fortezza del PRIAMER stupenda E alla regione Liguria che dal 2007 finanzia progetti eco solidali Questo è importante dirlo per tutti In conclusione del nostro incontro come sempre chiedo ai miei ospiti Chiedo anche a te Isabella un consiglio letterario Siamo a tema Esatto, il mio consiglio letterario fa la cosa giusta Una guida pratica a dove comprare a Genova e in Liguria prodotti eco solidali Comunque è una guida al consumo critico Utilissima, la mia è un pochino più datata ma è da tanti anni che la utilizzo Che faccio la cosa giusta Che faccio la cosa giusta E quindi appunto è un modo per scoprire chi si occupi di commercio eco in Liguria E quindi anche di come fare scelte consapevoli nel momento in cui ad esempio ci approcciamo al nostro carrello della spesa Assolutamente Grazie Isabella, appuntamento a Savona Esatto, appuntamento a Savona, grazie Grazie